L'emergenza acqua a Termoli non è ancora rientrata. Ci sono purtroppo ancora migliaia di cittadini con i rubinetti a secco. Si tratta di quelli della zona alta di Porticone, via Fortore, via Pisa per intenderci, ma anche via Venezia dove il normale flusso tornerà in giornata. Mentre si prolungano i disagi per Colle Macchiuzzo e Colle della Torre, i quartieri più alti della città e dove la CREA ipotizza che l'acqua tornerà al massimo per domani mattina. Le condotte, come spiegato dall'ufficio tecnico, si sono completamente svuotate e quindi dovranno nuovamente riempirsi prima di poter avere una giusta pressione in grado di raggiungere tutte le case. Il sindaco di Termoli, Angelo Sbrocca, si difende. Non è colpa nostra, noi abbiamo fatto il possibile, ma intanto nella gestione dell'emergenza vengono fuori anche le carenze di mezzi della protezione civile che il governo regionale ha deciso di smantellare. Ci sono delle segnalazioni che in alcune zone non c'è acqua o non perviene acqua e questo da quello che ci spiegava la CREA è per due motivi fondamentali. Prima perché le tubazioni sono state vuote, sono rimaste vuote per oltre 24 ore e quando si rimette l'acqua si creano delle bolle d'aria. Queste bolle d'aria ovviamente creano un'interruzione del flusso dell'acqua e quindi deve essere ovviamente rivista e devono essere fatti interventi da parte della società CREA in ogni punto dove si vede a questo. E poi ovviamente rimettere l'acqua in pressione e far sì che la pressione arrivi ad un grado tale che possa arrivare anche per esempio negli ultimi piani, ci vuole un po' di tempo. Mi spiace per questi disservizi ma sono disservizi che non sono dovuti da noi ma sono stati provocati da eventi atmosferici che vengono dichiarati eccezionali e dall'interruzione del flusso dell'acqua da parte di Molise Acque. Non si poteva organizzare un servizio sostitutivo comunque magari con delle autobotti per poter rifornire i cittadini? Senza costringerli a dover andare a comprare l'acqua come successe già 5 anni fa? L'acqua in bottiglia? Guardi, lei sa che il Comune non ha autobotti, non ha queste competenze. Abbiamo chiesto questo alla protezione civile, purtroppo la protezione civile non aveva neanche loro le autobotti. Abbiamo chiesto anche alla protezione civile dell'Abruzzo per delle autobotti ma ce l'hanno negate perché avevano delle emergenze anche loro. Io ho già chiesto al governatore un incontro perché è un sistema che deve essere sicuramente rivisto, deve essere rivisto perché il sistema emergenziale deve avere una sua pronta disponibilità. Tanti dunque disagi con residenti costretti a usare l'acqua delle bottiglie per lavarsi e per cucinare. Un obbligo quest'ultimo che è scattato in via cautelativa per tutta la città di Termoli ma anche per Campomarino, Porto Cannone, Petacciato e Monteniero di Bisaccia dove i sindaci hanno emesso le ordinanze che vietano l'utilizzo dell'acqua per scopi alimentari. Una situazione che si protrarrà ancora per alcuni giorni. La Crea per poter effettuare i prelievi deve attendere che l'acqua sia a pressione, così in gergo. Poi bisognerà attendere almeno 72 ore per avere i risultati. Dunque le ordinanze non potranno essere revocate prima di sabato nel caso in cui i prelievi vengono effettuati domani e se i parametri non saranno nella norma l'emergenza potrebbe durare ancora per molti giorni. Nei supermercati e corse all'acquisto di acqua in bottiglia e le scorte di magazzino si stanno esaurendo. Scene come quelle di cinque anni fa quando per la presenza di trialomentani nell'acqua della diga per quasi 20 giorni sotto le feste di Natale fu piena emergenza.